Si è tenuta martedì 15 febbraio presso la sede dell'Università per stranieri di Perugia a Palazzo Gallenga la cerimonia di conferimento della laurea onoris causa in sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali a Monsignor Georg Genshwein, segretario particolare del Papa. Dopo il saluto e la presentazione della professoressa Stefania Giannini, rettore dell'Università per stranieri di Perugia e la laudazio del professor Marco Impagliazzo, prorettore dell'Università per stranieri di Perugia, Monsignor Genshwein ha tenuto la propria lezione dottoralis sui rapporti tra Stato e Chiesa, la Libertas Ecclesi e nel concordato del 1929 e nell'accordo del 1984. Per ordine e mandato del Presidente della Nazione Italiana, quindi in nome e per l'autorità di questo altissimo collegio di dottori della Facoltà di Lungua e Cultura Italiana e del promotore, da onorarsi in questo atto ed insieme a nome nostro, innanzitutto assegniamo a te questo luogo, a simbolo della Cattedra e del Magisterno, perché tu possa dove in poi diffondere a tutti ed interpretare i sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali.